Roma, località Capannelle. Siamo di fronte all'ingresso delle scuole centrali antincendi dei Vigili del Fuoco, dove si svolgono le attività formative delle donne e degli uomini che per primi intervengono nel soccorso. In 160.000 metri quadri, la scuola dispone di circa 1.000 posti letto, in camere da 6 posti su tre palazzine alloggi. Ci sono poi la torre addestrativa, 20 le aule didattiche da 40 posti, oltre a un'aula informatica con 15 postazioni, magazzini e laboratori di falegnameria, idraulica, edilizia per tecnici elettricisti, pittura murale, fabbri e tornitori. E ancora campo sportivo, palestre, una piscina. La scuola ha il compito della formazione di base del personale, un addestramento che punta alla preparazione dei Vigili negli interventi di soccorso in situazioni difficili, assicurando allo stesso tempo la sicurezza degli operatori. In questa scuola, che è la scuola centrali antincendi, la storica scuola dei Vigili del Fuoco, questa nasce negli anni 30 appositamente per fare istruzione, per fare scuola per i Vigili del Fuoco. Allora qui si fa la formazione di base, la formazione che noi diamo ai Vigili del Fuoco appena entrano nel corpo nazionale. Il centro documentazione, anche questo nasce già da tantissimi anni, da vecchia memoria, perché noi abbiamo sempre sentito l'esigenza di fare formazione attraverso la documentazione. Quindi il ruolo principale di questo centro di documentazione è proprio quello di realizzare supporti, supporti didattici, cartacei e video per permettere di fare la formazione, per permettere di trasmettere le informazioni. Nel centro di documentazione, quello che un tempo era chiamato laboratorio cinefotografico, ci sono le memorie tecnologiche di una professione in continua evoluzione. Proiettori degli anni 50, moviole per montaggio di pellicola risalenti agli anni 60, apparecchi fotografici di varie epoche e una documentazione per immagini vasta e, si potrebbe dire, museale. Sì, è proprio così, come abbiamo detto, infatti cominciamo da fotografie dell'epoca, dagli anni 20 e anche prima, periodo bellico, ci sono sportive, foto sportive, foto di distaccamenti centrali, un po' di tutta Italia e qui praticamente convogliavano tutte le foto che facevano i colleghi nelle varie città d'Italia e qui convogliavano in questo archivio che è l'archivio nazionale del corpo nazionale. Attualmente ancora più o meno è così come funzionava allora. Oltre a terremoti, alluvioni e quant'altro di questi disastri geologici che purtroppo abbiamo qui in Italia, noi curiamo anche la parte della formazione qui delle scuole centrali antincendi nonché manifestazioni varie in genere, come possiamo dire, ecco, eventi che vanno dal Papa oppure dal Presidente della Repubblica come è successo il 2 di dicembre scorso, ecco queste sono alcune foto che riguardano appunto il terremoto dell'Aquila, facciamo tutto qui in casa, scattiamo, stampiamo, divulghiamo per tutta Italia, per tutti i centri che sono appunto limitrofi a noi. Il racconto per immagini degli interventi e della vita dei vigili oggi si dispiega attraverso le più aggiornate tecnologie informatiche e la professionalità degli operatori. Nel centro è presente un laboratorio di montaggio e post-produzione di audio-video, finalizzato al supporto delle attività formative e di comunicazione del corpo. Uno dei reparti del servizio documentazione è il reparto televisivo, dove ci occupiamo di documentazione video di eventi di particolare entità, veniamo allertati e ci portiamo sul posto per documentare terremoti, alluvioni, crolli, sempre cose insomma abbastanza forti. Questo materiale da noi prodotto e post-prodotto in studio viene utilizzato sia come memoria storica di archivio per i vigili del fuoco e sia come formazione per i nuovi vigili o per ricorsi di aggiornamento del personale operativo dei vigili del fuoco. Con l'avvento dei sistemi digitali abbiamo molto materiale archiviato in digitale, ma abbiamo anche un archivio storico dove ancora ci sono delle pellicole, dove ci sono ancora dei nastri analogici. Il servizio documentazione per quanto riguarda la parte televisiva e fotografica è un ufficio di coordinamento nazionale perché in quanto sul territorio abbiamo altri CDV, dei centri documentazione video e foto, che vengono allertati per arrivare più rapidamente sull'evento catastrofico in corso. Supportiamo anche le televisioni perché abbiamo la possibilità di avere accesso alla zona rossa per la comunicazione. È in fase di aggiornamento la comunicazione nazionale perché abbiamo capito, il sistema ha capito che la comunicazione è molto importante. Un centro di eccellenza dunque, che partendo dalle esperienze ormai storiche fornisce una formazione per gli operatori al passo con i tempi e una comunicazione all'esterno dei valori dei vigili del fuoco.